Io sono Gabriele Rossi, ho 28 anni e vengo da Frascati. Nasco danzatore, mi avvicino alla recitazione a causa della danza. Verso i 13 anni ho iniziato a vincere i primi concorsi, sono riuscito a vincere una borsa di studio e ho studiato a New York diversi mesi. La prima fiction a cui ho partecipato è stata Amiche mie nel 2008. Il primo bagno di popolarità me l'ha dato l'onore e rispetto 2. Sei ancora un bambino. I miei genitori hanno una pizzeria a Frascati in centro. Nella pizzeria c'è un angoletto a me dedicato. Io puntualmente chiedo a mia madre di metter via, però solo che mia madre è contentissima di questo e quindi non la privo di questa gioia. Ho una sorella più grande e tra poco diventerò zio e purtroppo io sarò nella casa. Io gioco per vincere, una volta che ci sono dentro, come si dice, quando si inizia a ballare si balla.